di Benedetto XVI e al mondo vitale di Joseph Ratzinger. In tale mondo ha un ruolo decisivo la chiamata alla Cattitra di Pietro, che lo sorprese nel pomeriggio d'aprile in maglione nero e con quel maglione nero sotto l'abito bianco lo colpò sulla loggia della Basilica di San Pietro. La visita guidata ci dice qualcosa sull'uomo in maglione, su quello con l'abito bianco e sul rapporto tra i due. La mia presentazione si appunterà su questo lato umano del suo modo di fare il Papa. Vedremo Joseph Benedetto che dubita e si interroga o che, a seconda dell'argomento che affronta, è sicuro di sé e della sua parola, che ci informa su come è arrivato a una decisione che ammette errori e ripensamenti o lascia intravedere qualche futuro orientamento. Coglieremo per lo più quest'uomo chiamato a fare il Papa nell'atteggiamento con cui viene pubblicando i due volumi su Gesù, che propone non come documenti di Magistero ma come attestazioni della propria ricerca del volto del Signore.